Chiama! Posso? Sapevo che avresti scelto quello rosso. Il colore giusto per sposare un assassino. Sei viva. Edoardo, è sempre stato un tuo difetto, eh? Anche quando volevi uccidere Aurora. Non finisci mai quello che inizi. Io non ho cercato di ucciderti. Oh sì, che l'hai fatto. Ma non ci proverei mai più. Perché se dovesse succedermi qualcosa, un notaio sa cosa fare con tutte le prove contro di te. Le prove su tutte le persone che ha ucciso in questi anni. E ha anche indicazioni precise su chi deve averle. Tu devi sperare che io viva molto, ma molto a lungo. Che cosa vuoi fare? Vuoi far saltare il matrimonio? Ah, che banalità. Dai, Fiamma, siamo già in ritardo. Curri! Forse è meglio che Fiamma non mi trovi con il suo abito, no?